Il calcio è bello perché a volte unisce. Quando ci sono anche delle storie umane, che possono essere anche delle tragedie o comunque delle situazioni difficili da gestire, si mette da parte quello che è l'orgoglio per la propria squadra, si mette da parte il tifo e ci si unisce. Quello che voi farete domenica, una partita con il Canicati Calcio, ha un valore in più che esula un po' da quello che è l'agonismo, il tifo e unisce stavolta. Il calcio che unisce? Allora, innanzitutto noi diciamo che la SD Canicati si sta facendo promotrice di un'iniziativa benevola a favore di Agostino Calatabbiano. Agostino Calatabbiano è un calciatore del Bolognetta che purtroppo ha subito un gravissimo infortunio di gioco e diciamo che si trova in condizioni di coma. Quindi noi come società di calcio SD Canicati stiamo organizzando questa raccolta benevola pro Agostino. È domenica in occasione della partita con il Castellammare e daremo a tutti coloro che gradiranno dare il loro contributo un ticket. Tale ticket servirà appunto all'estrazione a fine partita di due maglie ufficiali della SD Canicati Calcio. Questa iniziativa ci riempie d'orgoglio. Noi siamo consapevoli della partecipazione che ci sarà da parte del nostro pubblico. Con l'occasione invito tutto il pubblico ad essere presente e a dimostrare che Canicati oltre a vingere sul campo vinge anche fuori dal campo. Tra l'altro il Canicati Calcio conosce bene cosa significa in questi momenti perché lo ha vissuto l'anno scorso con l'infortunio a Rosario Comparato e quindi sa bene cosa si vive in queste occasioni, in questi momenti. L'anno scorso la SD Canicati ha vissuto sulla propria pelle un invortunio tragico di un nostro tesserato. Quindi sappiamo appunto che cosa significa. Siamo vicini alla famiglia di Agostino e vogliamo dimostrarlo ancora di più con un piccolo apporto economico. Quindi scusate se sono ripetitivo vi invito a partecipare, a contribuire affinché dimostriamo la nostra vicinanza alla famiglia di Agostino.